Musica Abbiamo intervistato poco fa Mara, capitano italiano, non è l'unico capitano in rosa di questa 24 ore perché grande rappresentante di squadre francesi e abbiamo infatti con noi madame, le capitaine, madame Sabrina Ciao Sandrine Buona sera la Il titulante del Granol Team Racing, autore di Stefano Polo, ma noi siamo l'assemblata, come c'è il ruolo del capitano, come c'è il ruolo del capitano, come c'è il ruolo del capitano. Il ruolo del capitano, che sia femminile o masculin, è di farciare il tempo a dei piloti, inoltre la piste. La piste è per loro, è per loro, e nel centro è per loro. C'è il ruolo del Granol Team Racing, è una equipe che è stata fondata da 4 fami in 2008-2009. È prima di tutto un esprimato di convivialità. Ce che ho trovato nel gruppo di più di un anno ora, è l'envi di riuscire, ma anche l'enviare di vivere delle emozioni forti. In 5 mili anni, abbiamo fatto la pole posizione, auton scratch, tutte catégorie confondue, grazie a Matteo Chartier. Abbiamo un po' di difficoltà su una mi-course, ma non è giusto, non è finito. Inoltre, il ruolo importante come si fa riguardare tutto la squadra, è una squadra che è fondata da 10 anni fa. Combien d'anni anni ti sei capitano? Allora, questo è stato fatto l'anno scorso anno dell'anno, che ho richiesto il gruppo di più di più di più di più di un anno. Quindi, abbiamo 30 i ministri del gruppo di più di più di più di più. Quindi, è la scostrazione che tu hanno? Ci siamo 3 i ministri del gruppo di più 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 di più. Oh, ok. Allora, il gruppo di più di più di più, quindi, 2 anni e 3 capitano ma ci sono 3 capitano che... C'è un gruppo d'attore? 3 madame? 2 fami e 1 ombre. Ah, 2 fami e 1 ombre. Il migliore sarà la fama. Dependendo del circuito, del pilota, ma c'è un pollo di podium. C'è la convivialità della competizione e delle belle tante, con bellissime victoire. Bene, quindi non dipende anche da tante condizioni, non è detto che il risultato è meno bene dai capitani in rosa. Grazie Sandrina!